A settembre potrebbe non esserci spazio per tutti nel nuovo polo scolastico di Salleucio a Isernia. Questo a conti fatti è il quadro che emerge a conclusione del periodo fissato per la presentazione delle domande di iscrizione per il prossimo anno scolastico. Una situazione che sta già generando malumori e polemiche da parte dei genitori, i cui figli potrebbero non essere ammessi a frequentare le lezioni nell'istituto prescelto. Al loro avviso ciò vuol dire vedersi negato un diritto, quello di scelta. Il problema è che per la scuola media Andrea di Isernia ad esempio non ci sono abbastanza aule per accogliere tutti gli alunni che hanno fatto domanda. Infatti a fronte di 194 istanze presentate per la scuola guidata dalla dirigente Mariella Di Sanza sono disponibili appena sei aule, naturalmente non sufficienti. Da parte dell'istituto comprensivo San Giovanni Bosco ovviamente ci sarebbe la massima disponibilità ad accogliere tutte le richieste. Tuttavia sarebbero necessarie altre aule, la parola dunque dovrebbe passare al comune. Ma è difficile pensare che possa esserci la volontà politica da parte dell'amministrazione di reperire nuovi spazi per l'Andrea di Isernia, anche per non penalizzare ulteriormente l'altro istituto. Non soltanto, a rendere la situazione ancora più complicata c'è il fatto che la stragrande maggioranza dei genitori che hanno fatto richiesta per l'Andrea di Isernia non hanno indicato una sede alternativa. La situazione, sempre stando alle iscrizioni ricevute, non è dissimile per ciò che concerne la scuola primaria. In questo caso il numero degli iscritti alla San Giovanni Bosco risulta essere di 120 unità a fronte di quattro aule a disposizione. Una situazione dunque che rischia di scatenare ulteriori polemiche da parte degli eventuali esclusi.